Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Telemolise. Dunque crescono i casi sospetti di persone anziane decedute a causa di vaccinazione anti-influenzale della Novartis, anche se finora i casi ufficiali sono tre, di cui uno in Molise. I carabinieri del NAS stanno eseguendo in regione e in Sicilia il sequestro di materiale e documenti. Intanto il figlio della donna morta a Termoli ha richiesto la cartella clinica della madre. Sentiamo Fabrizio Occhionero. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha vietato l'utilizzo di due lotti del vaccino anti-influenzale Fluad da scopo esclusivamente cautelativo, a seguito di tre morti sospette, due avvenute in Sicilia e una in Molise. Si tratta dei lotti 142-701 e 143-301. Dall'ospedale Santimoteo di Termoli era partita la segnalazione all'AIFA tramite il servizio di farmacovigilanza dell'ASREM per una donna di 79 anni di San Felice del Molise, deceduta con una diagnosi di meningite batterica. L'anziana si era vaccinata il 14 novembre, il 17 è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni e il giorno dopo è morta. Il figlio ha già chiesto la cartella clinica. Mia madre ha spiegato stava bene e ora aspettiamo i risultati degli accertamenti. A Termoli anche il caso di un'altra anziana di 92 anni, ricoverata e poi dimessa dal reparto di medicina d'urgenza, ma dal vaccino al ricovero erano già passati alcuni giorni. L'Agenzia del Farmaco ha invece specificato che negli altri tre casi i pazienti hanno iniziato a sentirsi male dopo 48 ore dalla vaccinazione. Al momento si legge in una nota ufficiale dell'AIFA, non è certo se si tratti di una casualità oppure se vi sia onnesto con il vaccino. Un quadro completo, continua la nota, potrà essere fornito solo dopo aver analizzato lo stato di salute dei pazienti, la loro età ed eventuali patologie da cui erano affetti. Sulla vicenda è intervenuta la casa farmaceutica Novartis che ha escluso qualsiasi relazione casuale con la somministrazione del vaccino per i casi al centro delle verifiche. Il produttore del medicinale ha ribadito di valutare tutte le segnalazioni con la massima serietà e attenzione. Una revisione sui due lottisi, legge in una nota della Novartis, ha confermato la conformità con tutti gli standard di produzione. Intanto la procura di Larino ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sulle cause della morte dell'anziana di San Felice del Molise. Il procuratore Ludovico Vaccaro ha avviato gli accertamenti necessari per stabilire se la dose del vaccino abbia provocato delle conseguenze per la salute della donna o se il decesso sia da attribuire ad altri fattori. Al momento non ci sono provvedimenti giudiziari. E sulla vicenda abbiamo sentito il direttore sanitario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, Luigi Di Marzio. Lo ha intervistato Tonino Danese. Esiste un legame tra la morte dell'anziana all'ospedale di Termoli e il vaccino anti-influenzale assunto. È la domanda che un po' tutti si sono fatti in queste ore e che abbiamo rivolto al direttore sanitario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, Luigi Di Marzio. L'unico legame che attualmente si può dichiarare è il legame cronologico, null'altro. Non abbiamo nessuna evidenza che ci sia un nesso di causalità tra questi due fatti. D'altra parte dobbiamo essere consapevoli che il tipo di vaccino che è destinato specificamente alla popolazione più anziana, che è anche quella affetta da polipatologie e che è anche quella che ha più bisogno di essere vaccinata per proteggersi nei confronti di questa evenienza, è un vaccino che viene sommistato a persone che per ragioni naturali hanno maggiori probabilità di poter andare incontro a eventi fatali rispetto alla popolazione generale. Nel caso specifico della paziente molisana? Per quello che ne sappiamo trattavasi di paziente affetto da polipatologie e quindi è molto difficile poter stabilire a alcunché di diverso da un nesso cronologico se non con approfondite indagini anatomopatologiche che al momento l'autorità sanitaria nazionale non ha ritenuto di dover disporre. Gli organi nazionali valutati tutti gli elementi che dovessero rendere convergenti verso un'ipotesi di questo genere i pochi tre casi che mi risulta siano stati siano sotto indagine a livello nazionale l'autorità nazionale eventualmente disporrà gli ulteriori accertamenti necessari. I due lotti del vaccino non sono più in circolazione? Dei quattro vaccini disponibili uno solo è attualmente sotto indagine e di questo vaccino soltanto due lotti sono stati tolti dal commercio. C'è dunque da preoccuparsi in qualche modo? Le vaccinazioni hanno una storia ormai centenaria e hanno salvato milioni di persone quindi non si mette in discussione l'efficacia della pratica vaccinale. Come tutti i farmaci anche i vaccini possono presentare rischi o eventi avversi ma al momento non c'è nessuna evidenza che ci troviamo di fronte a un'eventualità di questo genere quindi la vaccinazione, le vaccinazioni e anche la vaccinazione anti-influenzale non ha nessun motivo di essere messa in discussione per quello che è successo. Il direttore generale dell'ASREM Mauro Pirazzoli invita tutti coloro che abbiano in casa confezioni di vaccini Fluad della Novartis numero 1427-01 e 1433-01 a verificare sulle confezioni i numeri dei lotti e se corrispondenti a uno di quelli per i quali è stato disposto il diveto di utilizzo a contattare il proprio medico per la valutazione di una alternativa vaccinale. Intanto il senatore del PD Roberto Ruta ha presentato un'interrogazione per chiedere al Ministro della Salute se prima di distribuire il vaccino siano stati rispettati i protocolli. Se ciò è avvenuto si domanda Ruta com'è possibile che il vaccino ha prodotto conseguenze letali e di chi sono le responsabilità. Il senatore ha chiesto al Ministro Beatrice Lorenzin quali sono le azioni intraprese per evitare altre morti. Cambiamo argomento, va avanti la ricostruzione post-terremoto. Oggi nella sede dell'Aggiunta regionale il Presidente Frattura, il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Scarlatelli e il Consigliere Delegato Ciocca hanno fatto il punto della situazione. Anna Maria Di Matteo. Con l'accordo di programma quadro da quasi 162 milioni di euro sottoscritto proprio nelle ultime ore, la Regione ha impegnato complessivamente 384 milioni di euro per la ricostruzione post-terremoto. A tirare le somme il Presidente della Regione Frattura, nel corso della conferenza stampa organizzata con il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile Scarlatelli ed il Consigliere Delegato Ciocca. Il Governatore ha ripercorso le principali tappe della vicenda partendo da quello che ha trovato al lato del suo insediamento. Nell'aprile del 2013 ha detto la ricostruzione era ferma al 30% e più di mille persone erano ancora fuori dalle proprie abitazioni. Ad oggi la situazione è radicalmente cambiata, ha detto Frattura. Abbiamo avuto la conferma definitiva delle risorse finanziarie per la ricostruzione. La ricostruzione è andata avanti anche in questo anno e mezzo al netto di un primo periodo di sospensione che è servito a riallineare i 45 milioni di euro di debiti che l'Agenzia aveva nei confronti delle imprese che avevano realizzati i lavori. Oggi con la stipula dell'ultimo APQ abbiamo confermato tutte le risorse. Adesso si tratta soltanto di impegnarci a ridare casa a chi paradossalmente purtroppo dopo 12 anni ancora è fuori di casa propria. La scadenza è il 2018, la scadenza tra le quali dovrebbe essere ultimata la ricostruzione. Intanto come tempi e soprattutto come risorse, come sta messa la Regione? Oggi ci siamo riallineati tra lavori eseguiti e lavori pagati. Il saldo di circa 17 milioni di lavori contabilizzati a novembre 2014 faremo di tutto per saldarli entro fine anni o gran parte di questi 17 milioni. Rimangono da realizzare 250 milioni di euro di lavori. Abbiamo già programmato e abbiamo rispettato i 70 del 2014 così da andare avanti per i prossimi quattro anni con un avanzamento di 60 milioni di euro che trovano, indipendentemente da se riusciremo o meno ad ottenere la nettizzazione degli stessi dal patto di stabilità, che comunque secondo la programmazione finanziaria trovano spazio all'interno del patto. E poi c'è la vicenda che riguarda i 10 milioni di euro che mancano all'appello e che secondo Frattura si sarebbero persi nel passaggio tra la gestione commissariale e l'Agenzia di protezione civile. Ci sono per la verità due situazioni delicate da chiarire. Due milioni di fatture nei confronti dell'Agenzia e della colonna mobile alle quali fatture non corrispondono né impegni né documenti giustificativi e altri 10 milioni che nel passaggio tra perdifondi per enti, che nel passaggio tra l'Agenzia e il Comune di San Giuliano non sono né rintracciabili né documentabili. Rispetto a questo è evidente che dovremo rivolgerci a chi di dovere. Intanto l'ACEM, l'Associazione Costruttori Edili del Molise, ha espresso soddisfazione per l'APQ da 162 milioni di euro e si augura che si possa davvero chiudere il percorso della ricostruzione post terremoto. Adesso però, ha sottolineato il Presidente Corrado Di Niro, si paghino le imprese che sono esauste, estremate dalla crisi e si prosegua nell'impegno a Roma che deve portare alla liquidazione delle risorse dal Governo centrale alla Regione. Si riaccende lo scontro sui costi della politica. I promotori della legge ed iniziativa popolare per il dimezzamento delle indennità ai consiglieri regionali diffidano il Presidente Vincenzo Nero e chiedono il rispetto dei tempi fissati dallo Statuto. Polemiche anche sull'abolizione dei vitalizi. Giovanni Minicozzi. Torna d'attualità il tema dei costi della politica e dei vitalizi e le polemiche non mancano. I promotori della legge ed iniziativa popolare per il dimezzamento delle indennità dei consiglieri regionali unitamente al Comitato dei cittadini indignati hanno inviato nei giorni scorsi una diffida al Presidente del Consiglio, Vincenzo Nero, per chiedere il rispetto dei tempi fissati dal nuovo Statuto. L'articolo 42 del nuovo Statuto regionale prevede che entro quattro mesi dalla assegnazione della proposta di legge alla competente Commissione la proposta viene iscritta d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio regionale e viene esaminata. Quindi il Presidente del Consiglio regionale ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno la nostra proposta di legge e di esaminarla. Qualora non dovesse succedere che farete? Noi nella nota che abbiamo inviato al Presidente del Consiglio abbiamo detto che siamo persone che fanno politica da sempre, abbiamo una alta considerazione della politica e siamo convinti che la politica non si fa con la carta bollata, ma se la politica, se le istituzioni, se il Consiglio regionale che ha approvato lo Statuto, ha approvato la norma e la disattende, saremo costretti per difendere la volontà dei circa 6.000 cittadini che hanno sottoscritto la proposta di legge a ricorrere alle vie legali. Questo denota anche poca volontà da parte del Consiglio regionale di abbassare gli stipendi dei consiglieri? Ma io capisco che ci sia anche questa poca voglia da parte del Consiglio regionale ad autolimitarsi e ad autolimitare le proprie spettanze. Il Consiglio regionale comunque ha il dovere di esprimersi su quella proposta di legge, ha la facoltà naturalmente anche di bocciarla assumendose nella responsabilità. Intanto è tornato d'attualità il tema dei vitalizi dei consiglieri regionali. Quella dei vitalizi è un'altra storia che purtroppo io ritengo andava affrontata anche a tempo debito. Ho provato dal 2004 a presentare la proposta di legge per abolirlo perché sapevo che saremmo arrivati a questo punto. La nostra è una società infarcita di privilegi che sono disseminati dappertutto. Se la politica non si libera dei propri privilegi non avrà la possibilità di mettere mano nella grande massa e voragine dei privilegi in cui naviga la nostra società. Attendiamo con fiducia l'esito degli accertamenti effettuati nelle due celle in carcere. Lo ha dichiarato l'Avvocato Nicola Bonaduce, difensore dei due detenuti indagati dopo la morte del detenuto nell'Istituto di Pena di Isernia. I risultati degli esami, durati circa due ore, saranno consegnati alla scientifica. Vorrei invitare la cautela su questa vicenda, poi dichiarato illegale, perché l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto e quindi la verità dei fatti è ancora da accertare. Ed ora andiamo ad Isernia. Il Consiglio Comunale ha approvato l'acquisto da parte del Comune dell'area della stazione ferroviaria precedentemente destinata a deposito. Sentiamo Enzo Di Ghetà. Costerà le casse del Comune poco più di un milione di euro, ma l'investimento maggiore non sarà l'acquisto dell'area della stazione, bensì la sua trasformazione in un parco verde al centro della città. Un parco che sarà sormontato da un ponte che vedrà la scomparsa del passaggio a livello sostituito da una rotonda sotterranea. Un progetto ambizioso realizzato grazie ai fondi PISU messo in cantiere dalla precedente amministrazione condiviso dall'attuale che ne ha sottolineato le peculiarità positive con le parole dell'assessore Luciano Sposato. Ma a proposito di verde pubblico le polemiche sul campetto di calcio alla Villa Comunale sono arrivate anche in Consiglio dove Celeste Caranci, storico militante della sinistra Isernina, si è presentato come uomo sandwich con le foto della Villa Comunale. Noi contestiamo il merito di alcuni lavori soprattutto appunto come si diceva il campetto di calcio è una piccola in proporzione grossa colada di cemento è previsto un campetto di calcio delle dimensioni di 16 metri per 20 cioè parliamo di 320 metri insomma che è un bel po' a che pro non si capisce non esiste da nessuna parte una cosa del genere. E per convincere Brasiello a ripensarci è intervenuto anche Giacomo D'Apollonio che a nome della minoranza ha lanciato un appello al sindaco. Ci siamo espressi contro la realizzazione di questo campo polifunzionale che seppur di dimensioni ridotte comunque in proporzione all'area della Villa Comunale comunque io lo vedo come un progetto piuttosto invasivo sia per due motivi prima di tutto perché toglie verde pubblico che è la vocazione della nostra Villa Comunale avere verde pubblico fruibile da tutti i cittadini dai bambini alle mamme con i bambini alle persone più anziane alle coppie quindi aperto veramente a tutti i cittadini dall'altra invasivo perché un campetto polifunzionale assolutamente non controllato secondo quello che io capisco diverrebbe una calamita per tante persone per tanti non solo per i ragazzi più piccoli che dovrebbero essere i veri destinatari ma per tutti quelli che vogliono tirare due calci a un pallone per esempio e quindi insomma è una cosa assolutamente invasiva e poco secondo me conciliata con la nostra con la vocazione della nostra Villa Comunale e su Brasiello sembra che le pressioni abbiano avuto decisamente effetto infatti il sindaco si è proposto di incontrare tutti sull'argomento campetto di calcio ma l'impressione è che ci sarà un ripensamento dovuto alle forti contestazioni degli ultimi giorni adesso devo ragionare con i tecnici devo capire insomma in che maniera dobbiamo andare avanti una cosa è certa da parte mia ci sarà l'ascolto di tutti di tutti assolutamente di tutti per cui mi auguro insomma che la questione possa finire nel migliore dei modi ma soprattutto che possa finire nell'interesse di quelle persone di quei ragazzi che oggi utilizzano quegli spazi io sono abbastanza ottimista su questo vedremo nei prossimi giorni dopo che avrò ascoltato altre persone domani diciottesima giornata nazionale della colletta alimentare per aiutare le famiglie e le persone povere anche in Molise in diversi negozi saranno raccolti alimenti di prima necessità da donare sentiamo sono 6.500 le persone indigenti poveri molisani che possono contare sul banco alimentare una rete di 30-90 convenzionati che si occupano di recuperare cibo da donare a chi ne ha bisogno a chi non riesce a comprarlo domani in tutta Italia e dunque anche in Molise la diciottesima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare promossa dalla fondazione Banco Alimentare Onlus sotto l'alto patronato della presidenza della repubblica con la collaborazione di diverse associazioni e il patrocinio di regione e comune di Campobasso un centinaio di punti vendita a molisani dove sarà possibile la raccolta degli alimenti davanti ad ogni supermercato di tuttori di Molise ci saranno dei volontari che vi chiederanno di partecipare donando parte della propria spesa parte della propria spesa che tipo di alimenti comunque? noi chiediamo alimenti a lunga conservazione quegli alimenti che ci permettono appunto di avere una gestione più o meno lunga per poterli appunto dare a queste famiglie chiediamo olio, latte carne in scatola tonno tutti quegli alimenti che appunto ci permettono di poterli conservare un po' più a lungo diciamo così ecco la crisi si fa sentire è devastante la povertà dilaga anche in Molise ci sono dei dati che certamente fanno riflettere perché non sono dati positivi sì continuamente ci chiamano delle famiglie che ci chiedono un aiuto un aiuto anche alimentare noi assistiamo in Molise circa mille famiglie che hanno bisogno e continuamente continuano a chiamarci con la nostra associazione di volontariato di cui io sono vicepresidente assistiamo a Campobasso soltanto noi 85 famiglie questo per farvi capire un po' di che numeri parliamo poi ci sono le Caritas ci sono altre associazioni di volontariato che aiutano le altre famiglie quindi i numeri sono veramente alti e ci continuano a chiamare quindi noi chiediamo un aiuto un sostentamento partecipando appunto con un po' donando anche una scatola di pasta un pacco di pasta una scatola di legumi che appunto permette di aiutare queste famiglie situazioni più critiche che riscontrate? Famiglie che appunto hanno dei bambini piccoli bambini che appunto hanno bisogno anche di latte anche di pannolini diciamo così di omogenizzati pasta pastina latte famiglie con dei genitori che non hanno nessuno dei due lavoro per cui non c'è un'entrata economica e non hanno la possibilità di acquistare anche il minimo necessario sono stati assegnati ad Isernia i premi per le scuole che hanno partecipato al concorso dell'UNESCO in difesa dell'ambiente vediamo auditorium stracolmo di bambini scolari e studenti in festa di tutte le scuole di Isernia si è conclusa così con la premiazione delle scuole vincitrici la settimana dell'UNESCO dedicata alla difesa ambientale e al riciclo dei rifiuti un'iniziativa del comune di Isernia che ha voluto coinvolgere tutte le strutture didattiche della città che hanno presentato cartelloni filmati e ricerche sul tema dell'ecologia noi siamo alla seconda edizione che come assessorato all'ambiente del comune organizziamo questa manifestazione in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise e con il patrocinio dell'UNESCO credo che sia un tema importante sia importante soprattutto abituare anche i ragazzi alla cultura ambientale visto che oggi nelle prossime settimane noi avvieremo una nuova rivoluzione nella gestione dei rifiuti integrati e credo che insistere sulla sensibilità alla quale i ragazzi rispondono con degli elaborati importanti credo che sia anche una crescita anche per la città e per la nuova generazione che sarà il futuro di questa città gli istituti premiati per la qualità dei loro lavori sono stati per le elementari la scuola primaria di San Leucio per le scuole medie la scuola media Giovanni XXIII per le superiori l'istituto Itis Mattei a premiarle il presidente di Lega Ambiente Campania è molto importante evidentemente il lavoro delle scuole noi oggi concludiamo idealmente il decennio della DES vale a dire il decennio dello sviluppo sostenibile dell'UNESCO se ci interrogassimo su cosa è successo negli ultimi 10 anni sicuramente non c'è da stare allegri purtroppo molti dei problemi che l'UNESCO poneva nel proprio obiettivo non sono stati risolti affrontati ma non risolti certo poteva andare peggio senza l'impegno di tanti naturalmente l'appello ai governi sia quello mondiale che la sottolegita dell'ONU sia i governi locali ma ognuno può fare la propria parte e restiamo a Disernia tra le manifestazioni organizzate per celebrare la giornata mondiale contro la violenza sulle donne spicca quella organizzata dall'università dove è stata portata in scena una rappresentazione teatrale dai contenuti forti Sergio Di Vincenzo il testo teatrale scritto da Gioconda Marinelli e da Angela Matassa racconta le esperienze di donne vissute in epoche differenti e con ruoli diversi scienziate prostitute bambine e madri di famiglia hanno qualcosa che le accomuna le ingiustizie e le violenze subite anime nude questo è il titolo della rappresentazione è stata portata in scena all'aula magna dell'università di Sernia un'iniziativa del Rotary Club dell'associazione promozione donna e dell'inner wheel voluta per lanciare un messaggio forte nell'ambito della giornata mondiale contro la violenza sulle donne questo spettacolo che è crudo forte è di impatto di grosso impatto perché non si può edulcorare un argomento come la violenza sulle donne ma è giusto che sia così perché poi dalle parole scritte perché c'è anche abbiamo anche pubblicato il testo con una casa editrice di Napoli Homo Scrivens dalle parole sia scritte che orali che teatrali che sono di maggior impatto bisogna passare ai fatti si possa concretizzare ecco per esempio uno sportello antiviolenza legato ai presidi ospedalieri alle ASL ovviamente supportato dalle istituzioni e poi perché no che è ancora più difficile perché mancano sempre i fondi le case di accoglienza perché le donne violate maltrattate purtroppo non hanno altra speranza che allontanarsi da casa un'opera che scuote le coscienze che parla dritto al cuore degli spettatori grazie anche alle ottime interpretazioni di Marta Iacopini e Barbara Amodio nella doppia veste di attrice e regista noi donne siamo particolarmente sensibili a questo argomento della violenza e poter con il teatro mettere in scena un argomento così difficile e forse cercare di trovare uno spiraglio per lanciare nuovi segnali di allarme è una cosa che ci riguarda personalmente e vogliamo gridare il più possibile no no alla violenza giornata dedicata al miele e ai prodotti dell'agricoltura domani a Bagnoli del Trigno l'evento è stato organizzato dal Cenacolo Culturale del Calice Rosso e dall'Associazione La Chiave della Salute che si svolgerà nella sala convegni della Domus area alle 16.30 presenta il convegno con esperti del settore ed un confronto sul tema con l'assessore alle politiche agricole della regione molise Vittorino Facciolla seguirà una cena di gala con i piatti dello chef del Calice Rosso eccellenze agroalimentari molisane caratterizzate al miele di sulla acacia millefiori e castagno un sabato all'insegna dell'illusionismo e del divertimento per i più piccoli quello in programma a Disernia domani a partire dal pomeriggio sarà portato in scena il Magic Event all'Auditorium sentiamo le anticipazioni nel servizio di Giuseppe Carriera è un sabato speciale quello in programma all'Auditorium di Isernia che vedrà sul palco illusionismo bolle di sapone clown e tante iniziative dedicate ai bambini sotto il titolo Magic Event oltre due ore di spettacolo per le famiglie hanno spiegato gli organizzatori BF Promotion e Borghi d'Eccellenza nel cast Alberto Giorgi un personaggio tutto italiano che con la sua partner Laura si è affermato a livello internazionale dalla Francia una delle patrie della magia e dell'illusionismo dove hanno conquistato il Mandrake Door nel 2008 fino a Shanghai dove si sono piazzati al secondo posto e primi tra gli europei ad un contest mondiale di illusionismo lo Shanghai Magic Festival nei loro spettacoli non solo magia ma attenzione agli allestimenti e alla presenza di macchine volanti di oggetti esclusivi ispirate ai romanzi di Jules Verne o alle visioni futuristiche di Orson Welles la chiappa sogni la vaporizzazione un mini dirigibile Zeppelin che fa ingresso sul palco questo succede negli spettacoli della coppia di artisti toscani che sono passati spesso soprattutto sulle tv francesi ma nel cast dell'evento oltre a Tony il longilino clown con gli occhiali che è diventato quasi l'emblema della manifestazione anche un altro personaggio che coniuga insieme passione per il circo e l'astronomia Stefano Tocchio in arte Bertoldo all'attivo numerosi spettacoli e partecipazioni in tv come quelle alla corrida dove ha stupito tutti facendo danzare le bolle di sapone a ritmo di uno dei capolavori di Vangelis il suo progetto dell'astro clown è invece finito sui tg nazionali per la filosofia innovativa nell'avvicinare i ragazzi alla conoscenza dei pianeti e del firmamento infine uno spettacolo di contact dell'artista Fla una disciplina artistica di derivazione circense che letteralmente attaccata al corpo fa danzare sfere ed altri oggetti due gli spettacoli in programma nel pomeriggio e in serata l'evento è stato realizzato con il patrocinio del comune di Isernia Ed è tutto anche per quest'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito a tutti voi una cordiale buonanotte grazie per averci seguito